vai ciao buongiorno a tutti ciao eccoci qui finalmente a parlare del nostro prodotto segreto vi abbiamo creato curiosità in questi ultimi giorni, in questo ultimo mese finalmente oggi possiamo raccontarvi il nostro progetto il nostro gioiello, la nostra creatura vogliamo dire come si chiama innanzitutto? allora brava, esatto, innanzitutto abbiamo dato il nome a questo nuovo profumo della nostra linea di private mood che è Velvet Coco e già il nome può farvi capire, può dirvi tanto su questa fragranza abbiamo lavorato per due anni, interrottamente per cercare di creare il cocco come materia prima perfetta per questo profumo il cocco è un elemento molto difficile da lavorare ci è voluto appunto tanto tempo perché spesso il cocco può risultare leggermente acido leggermente rancido ma noi siamo riuscite a creare una scia morbida lattonica vellutata sulla pelle che vi scalderà come quando prendete il sole questo profumo vi rievoca l'estate la sabbia calda sotto i piedi una immagine di questo luogo tropicale esotico in cui scaldarvi e in cui stare bene Velvet Coco si apre con una magnolia morbidissima che dà questa nota di coccola proprio sulla vostra pelle arriva la farina di cocco, l'acqua di cocco, il latte di cocco e un tocco di vaniglia nel fondo è un profumo che veramente vi farà stare bene che renderà la vostra estate un sogno ad occhi aperti che renderà la vostra pelle profumata e vi abbiamo ascoltato tanto soprattutto in questo tempo era il nostro e il vostro desiderio quello di avere una fragranza pura al cocco nel nostro negozio non ne abbiamo una in giro non ne abbiamo trovata una simile quindi siamo davvero molto molto orgogliose tra l'altro è stata realizzata da un famosissimo naso italiano che è Luca Maffei che voi amate tantissimo in collaborazione con Cristian Cavagna altro naso italiano secondo noi hanno creato davvero quello che noi desideravamo quindi siamo veramente orgogliose stiamo sicure che lo amerete e che ne abbiate soprattutto bisogno per quest'estate esatto hanno creato una magia una magia pura perché il cocco come elemento in purezza non c'era no assolutamente no quindi siamo veramente tanto orgogliose quindi da oggi è possibile ordinare Velvet Cocco molte di voi iscritte al gruppo Telegram sanno già una piccola novità i primi 150 ordini riceveranno una sorpresa all'interno del pacco e oggi in Stories ve la mostriamo meglio che è già su Telegram però lo sa già quindi iscrivetevi al gruppo che ho notato perché abbiamo ricevuto già in anteprima tantissimi ordini completamente al buio quindi grazie veramente tanto per la vostra fiducia dopo vi mostriamo che cosa vi regaleremo e siamo veramente con un'emozione enorme oggi a raccontarvi questa cosa che abbiamo desiderato tanto abbiamo studiato tanto per renderla perfetta per voi veramente cosa facciamo? lo vogliamo spruzzare? lo spruzziamo ce lo mettiamo? mettiamolo insieme oggi esatto è perfetto estate pura sole sulla pelle sabbia cocco niente di meglio per la vostra estate che ci sono Grazie a tutti.